Allora Renato, siamo qui al Science Book Award 2017. Di che cosa si tratta soprattutto? Perché sei qui? Sono qui perché l'organizzazione del premio ha deciso di premiare un libro che ho scritto un anno e mezza fa e che tratta di bio-biometica, ovvero di tutte le invenzioni che l'uomo sta andando a pescare dalla natura. Di che cosa ti occupi tu principalmente all'interno dell'Università di Parma? Io sono un botanico, ho avuto un percorso un po' diverso da quello convenzionale, nel senso che sono lavorato in chimica. Mi occupo di tutte le molecole che le piante producono e che l'uomo usa in campo farmaceutico e in campo alimentare. Da un certo punto di vista, buona parte dei farmaci che utilizziamo sono derivati da molecole che sono già state messe a punto tra virgolette dall'evoluzione nelle piante, quindi anche questo è un esempio di bio-biometica. Ci fai vedere il libro premiato? Certo, il libro è questo, si chiama Erba Volant, imparare l'innovazione delle piante.